Tieni, tutto tuo Questo sì che mi piace In questa città secondo me è abbastanza inutile Eh, tu dici Arriva l'orso Ma che arriva l'orso, ma non ci proveremo i piedi di una scienza del genere Facciamo così E così Perfetto Che gente c'è lì? Gente cattiva, senza ombra di dubbio Gente cattiva ovunque per noi Allora, se continuiamo così Non usciamo vivi senza aver sparato un hit, guarda Eh, sarebbe Il game è in 38 Sarebbe abbastanza ridicolo Sì, vedi, ecco, adesso si è scoperto l'arcano mistero del perché si è sempre in po' Player Dove? Lo vedi? No 150 Sì Aspetta Due Credo che siano due Colpito Mi stavano distruggendo abbastanza Ok So che li abbiamo colpiti anche noi, però Sì, io li ho colpiti Una terra Ok Ferri di trappola Un altro tipo allora La trappola di prima Ma tua? Sì Hai metto una terra, quindi Ma senti? Sì, sento, sento Quindi c'è anche qualcun altro, vedi? Sì Dalla casa Perché probabilmente uno è stato buttato a terra dalla trappola Magari c'era l'amico che lo sta cercando di rassare Che poi hanno litigato con questi Che poi sono andati al mercato Mamma mia E hanno comprato un pesce Esatto, esatto Bravi 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 tutti Bravi tutti Ma che tutti in due siamo stati Bravissimi Ah, medikit lo prendi? O lo prendo io? Eh, prendilo Mamma mia Era pieno di colpi Mi sono ritrovata a 300 colpi dell'M16 Follia Se poi me lo vuoi dare qualcuno Io l'accetto Mi hanno fatto un po' Non lo so Non lo so Aspetta che qua nascosto Dietro una mitraglietta C'è anche un'M16 E vale C'era il medikit o te lo devo dare? Me lo sto attirando, grazie Idiota che non sei altro C'era il M16 verde, sì? Sì, ce l'aveva il tifo Ok, vuoi un fucile? Guarda che bel regalo Ce l'ho già Non me ne faccio nulla Grazie Cosa mi prendo? Cosa mi prendo? È uno spazietto Non so Dammi un po' di colpi Dammi un po' di colpi Un po' di colpi Dai Sì Granate me le prendo Uh, che poi mi sono resa conto di una cosa Un trampolino Probabilmente qui in mezzo, ho capito? Sì, sì, sì Credo di averlo anche visto Il tipo che lo troppava Quanto te ne do? 100 100 Sì, 100 Perché voglio fare la tirchia Grazie Ok Porca Mi ha preso un fucile A prendere la porta Ok, Fere Non panichiamo Ok Siamo rimasti in 26 nel game Siamo ancora dentro la città d'andazione E non so Se ci sono altri player Lì c'è qualcosa di leggendario Un cespuglio Un cespuglio Un cespuglio Un cespuglio Senti? Ormai dobbiamo andare Io non ho più paura Eh, se lo dici Io me ne vorrei andare Non vado là di finisca Hai cambiato tu l'arma? Sì E di andarmene per sempre Dov'è? Io credo Ma quello che si è fatto pure la finestra Lì su Esatto Salve Siamo noi Siamo invitati? Vorrebbe un colpo di fucile in faccia Hai visto? Hanno provato a spararmi comunque Sì Penso proprio che fosse per me Buongiorno Salve Salve C'è nessuno? Non vedo niente Da dove? Non mi piace Non mi piace per niente Sto situation Nenca me Nenca me Cioè Noi stavamo cercando Ma dove? Lì fuori Occhio L'hai visto? A sud È inutile Noi non possiamo spararlo Lui ha il cecchino Noi no Ok Cavolo Lì c'è anche qualcosa di viola Una pistola Allora Fammi un attimino controllare la zona Steph Sì siamo fuori Sta provando a colpirci Andiamo via No andiamo via Siamo in una posizione Svantaggiata Secondo me è anche stupido Ecco qua L'ho visto L'hai visto? No dove? Di fronte a noi Ok qui sotto? Sì Devo andare di pompa? Sì Ok Yes Bravi Bravi porca miseria Bravi Ok Di nuovo ho mentito la mia vita Questo te lo devi prendere tu il fucile Sì è mio Grazie Ok prendi Te lo prendi Che male Mi tiro l'altro medikit Balliamo È festa oggi Non ci sta mai qua Ma che balli Ferresti tu? Sì ho costruito una parete Per evitare che qualcuno ti cecchinasse in testa Mentre balli Steph Porca miseria Comunque Steph Dimmi Io ho un trampolino E quindi? Continuo a ripeterlo Cosa vuoi? Il trampolino Metterlo sotto un altro No ogni volta che lo dici Partiamo sfiga Adesso pensiamo uscire da questa città Poi se abbiamo la fortuna Di avere un altro Voglio dire una cosa Siamo usciti vivi dalla città Siamo in 16 rimasti Io non c'ho nulla Ce ne sono equipaggiato come se sono una cittadina brutta Ma perché scendono in così tanti qui? Non serve a nulla uscire vivi Porca miseria Perché alla fine c'è tanto eh Quindi comunque si riesce a sopravvivere Un modo o nell'altro Comunque Vabbè però c'è da dire Steph Che io sono piena di proiettili Quindi comunque Non che 324 del minigun Ma che scherzi Ma secondo me li trovi anche in una bella città Non so che dirvi Occhio qui eh Eh ho notato che c'è roba brutta Poi non abbiamo ancora il cecchino Nessuna dei due È una roba incredibile Io non so cosa possiamo fare in questo endgame Farò te lo giuro Non ne ho idea Piangere Beh quello lo farò volentieri Quando finiamo Per il trauma subito Andando a tilt a the town Non ci andremo mai più Porca miseria Allora Io non so bene in cosa sperare Qui siamo pure di fronte al lago del bottino E io odio stare di fronte al lago del bottino Ok Perché adesso ci arriveranno player da tutte le direzioni Che non possiamo sparare Perché senza il cecchino Siamo troppo distanti Perché si fight Esatto Mi sa che tagliamo da qua E poi riacciono Ah chiude a parco pacifico il game Oh Proprio dalla carne alla braccia oggi eh Di male in peggio Città su città In peggio Città su città Ha quasi chiuso la zona Quindi fra poco vediamo la prossima E capiamo se dobbiamo davvero entrare a parco pacifico Ok Per ora restiamo nei dintorni Quanti mattai? È terribile quando chiude 172 e 382 Ok quelli in mattoni vanno bene Quando chiude nelle città è terribile Parco pacifico ci sono delle scale Che hanno invaso la casa moderna Quindi non sembra nulla di buono Fere Io te lo dico Beh ma sicuramente a inizio game qualcuno è sceso Non so se ancora ci sarà Ma è probabile contando che sta dentro 14 Ma Cioè siamo in pochissimi Oggi sono davvero andati tutti a pinnacoli eh Tutti E ne siamo usciti vivi Tutti Sì Bravi noi Comunque Cioè È un bel risultato Sì Ce l'abbiamo fatta alla fine In un modo o nell'altro Adesso vediamo Continuiamo a giocare Bene Eh non so C'è la cesta lì In mezzo al campo Questa secondo me è una trappola Dici Sbucala sotto terra Pum Secco Io apprezzo molto Va bene Ma guarda ti dirò Che vuoi fare? Alla balestra Ah ok Ora Apri meglio di nulla Eh Sud ovest Vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua Ci ha visto troppo tardi Porca miseria Fere Eh mica i vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua Eh cavo Allora si è buttato dalla montagna Non so se uno o due Si è buttato? Sì Ma come? Eh ha fatto tutta la scivolata Ah Non so se era volontaria in effetti eh Eh perché in effetti stava costruendo No ma stanno continuando a costruire lì sopra Uno è lì L'altro è scivolato E non so se ci viene da noi o meno Che vuoi? Sto sentendo se ci sono passi Magari ci sta facendo il giro Ma stu No secondo me ha scivolato il risalito Vedi si è appena tornato dall'amico Stanno facendo una fortezza lì E il tipo continua a saltare Bello felice Pimpante Allegro Posso dare Saracca Colpito una volta Ok basta Vabbè ma lasciamo perdere Sono in alto Non abbiamo cecchini Non Dove ce ne andiamo? Cioè svantaggio di posizione Svantaggio di armi Quindi non ha troppo senso No no lo so lo so lo so Infatti gli ho tolto 33 di scudo Se vincere il game Perché quello non c'ha quei 33 Mhm Sì sì Poi ringraziami più tardi Tranquilla Non c'è bisogno Non ti preoccupare Allora Andiamo verso gli spari Fere Eh dopo Cioè siccome Li vedi? No non voglio vedere Oh sì che li vedo Ci vuoi proprio far morire Alla fine vero? C'è un cespuglio che spara Ok un tipo è stato preso Alle spalle ed è morto Un altro Quello ha bullato Che costruisce Noi lo prendiamo di muovare Alle spalle Ok vai Ok Sta sparando ancora però Oh cavolo Sì vabbè certo Questo deve morire subito Steph Aspetta Pronta Allora io gli ho levato Un po' di shield Ok Ma è dietro la collinetta Quindi è difficile Continua a spararlo Continua a spararlo Non fare il mio stesso movimento È qui è qui Mi sta tirando il lanciamissili Ho schivato Aspetta Uccidi bello Steph È giù è giù è giù Smetti di panicare Prendili i lanciamissili E venticchiare Prenditi lo scar dai Ok E dov'è l'amico Perché Cioè qualcuno ci sarà Ci dobbiamo vendicare qua Ho preso i colpi tuoi però Peccato eh Te li devo dare Tranquilla Ma di cosa? Da lanciamissili Ah Quelli mi servono Ok Fare te va per fare l'impossibile Vincere un game Scendendo in quella Cavolo di città Vito lo devi dire Non si dice mai nulla Mi prendo anche il cecchino Aspetta Aspetta che ti devo dare i colpi Oh cavolo Cavolo Vicini 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 Guarda Preso Ti ho lasciato i colpi qua Steph L'hai preso? Sì sono morti Ti dicevo ti ho lasciato i colpi Vieni 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 Sono tanti i colpi però Prenditeli Tranquilla 13 colpi Cavolo Prendi ho altri 18 adesso Perché ho ammazzato questi Capito? Ok Ok arrivo Stiamo solo in 8 C'è una caraffa Io la prendo Sì ok 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 Allora Ta 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 E ta Ok materiali ne ho Ricaricati tutte le armi Ok Ok perfetto Mamma mia Cavolo però ho lasciato i colpi sopra Erano tanti Vabbè tranquilla Ne ho 28 Ok Però hanno messo una trappola vero? Boh Hai sentito un rumore di ferro? Stavo ricaricando io Quindi forse è stato quello? Ok Dai è più probabile Non credo ci possa essere qualcuno vicino Andiamo? Sì Allora siamo in 8 E non ho idea di dove siano Ok Saliamo questa montagna Sì Tanto Mazzu ne ho io Ok Aiuto 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 Ok Possiamo anche stare qua Nel senso Nel punto bene preciso Eh sì 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 C'è una fortezza di fronte a noi Credo quella è ancora di quei tipi di prima Ah Secondo me E c'è un'altra alla nostra destra 255 Stanno Quindi Credo che diamo 2-2 Ok no manca un altro team ancora Occhio alle ceste Vieni via Eh ma ho lasciato il me Dai non lo prendo Lo shield E poi vai a recuperarlo nel caso Ah tiratelo lo shield No non posso stare così esposta Sì vieni qua e lo tiri Dove sei? Poi devo risalire di sopra Aspetta Ok mi metto qua Qualcuno gli spara Qualcuno spara alla fortezza di sud Un attimo Non so bene da dove Ma li hanno tranquillamente sparati Proprio malamente Ok Allora aspetta Sei tu che muovi? Sì 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 Boom Colpito uno di quello della torre Bravo Li assaltano da sotto Ok fammi vedere Ho cercato i colpilloni ai piedi Io sì che vedo Non farti vedere Ok stanno costruendo in avanti eh Quindi loro comunque sono Do una mano con un missile Doppiamente assaliti Sì Quindi svantaggio tecnicamente Ho mi stato gol missile Ma dai Cavolo che triste Però di poco eh Che triste Sì sì però io aspettavo l'esplosione Cioè decidevi di fare uno zoom là Perché fa venire da piangere sta scena Allora Ok 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 Uh L'hai visto per un attimo Boom Headshot Però aspetta Probabilmente lo ritirerà in piedi Sì 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 va bene va bene Che lo faccia Non ne spero Ok gli stanno salendo sopra Ok Gli stanno salendo sopra due Quindi comunque Sono Sono Davvero in difficoltà Perché abbiamo noi e abbiamo loro Sì il problema è che credo Che ci sia un altro team da qualche parte È certo che c'è Sette vivi Ti ha dato la kill È morto quello Oppure è morto un altro No 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 Forse è morto l'altro dell'altro team Sì sì io la kill di quello lì Ancora non me l'hanno data Quindi Quindi probabilmente l'hai riportato in vita Ma che cavolo Eh Capita Ascolta ma Facciamo una roba a lungo termine va Guarda lì Guarda lì Alla fine possono costruire quanto vogliono Se li distruggo le fondamenta è finita Certo Continuiamo a star safe Ovviamente tutto il tempo Ok Allora la zona non c'è troppo favorevole Ho visto Però neanche a loro Dobbiamo andare proprio al centro di tutto questo A me preoccupa l'altro team ancora Perché lì sono in tre Cinque con noi Gli altri due dove stanno? Non ne ho idea Non ne ho idea Mi sta mettendo un'ansia incredibile Allora la tua visione là Io controllo qui sotto Perché probabilmente sono qui sotto Steph Non c'è altro spazio Sono io? Continuo a non vederli Continuo a non vederli No Porca Miseria Gli ho fatto crollare la fortezza Restami Ok vieni qua Vieni qua Vieni qua Bella c'è va c'è va C'è sono coperto Se la stanno ricostruendo Ho paura degli altri capito Vabbè sono in sei Cavolo 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 Due ore per riuscire C'era un muretto di così Che dovevo distruggere Due ore ci ho messo Né mentre mi hanno sniperato Comunque Ho la caraffa Ok vai Sbircia un pochino Se ci stanno lasciando Controlla giusto quello No vero? Torna giù Torna giù Torna giù Non sembra Non sembra Ok 18 secondi Io stavo controllando tutto il resto Perché Eh non hai visto nessuno Siamo due contro due contro due Ma mancano player Ho paura che ci sbuchino Da un momento all'altro Sì vai Vai Fai strada Che ansia Lo so Visti Dove? Giù Ok vedi avevo ragione che erano in sta zona Noiosi che siete Per quello io li volevo rompere le fortezze Perché tanto sapevo che poi facevano i bulletti da lì sopra È ovvio che fanno i bulletti È ovvio che fanno i bulletti Ok Finirà male Fatti una tua fortezza eh Non riesco a farla per tutti e due Eh ma già mi sparano dall'alto Mi distruggono tutto Io ci provo comunque Ah mi sparano Tiro missili così ti da tregua No 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 Devo scendere Devo scendere Ci riprovo Niente Accidenti Siamo in cinque Ok A scoffere Riesci a venire qua? Eh cavolo me l'hai fatta costruire da sto Sto dietro di te comunque Vieni vieni fatti un ponte Ok un attimino Metti il trampolino Dov'è? Qui Qui Aspetta dov'è? Come me lo fa selezionare? Eh tasto destro Eh no perché ce l'ho qua ma non me lo fa selezionare No dopo che metti per le trappole fai tasto destro Ah ok Non l'ho mai fatto Oh cavolo mi è partito il PG Scendo 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 Ci sei? Sì Dietro di te Pronta? Più o meno Qua Steph Mi ha Mi ha Mi ha totalmente preso in faccia Proprio come è sceso Mi ha preso in testa Io un po' l'ho colpito Ma poi mi ha ucciso Peccato 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 Eravamo in svantaggio Fortuna loro che si fanno una fortezza Che li rimane dentro per 72.000 ore Eh che cavolo Potevi capitare fuori invece Vabbè Però potevamo fare di meglio Peccato Vabbè andata così